Prof. Mapelli, quali acciai si affermeranno nel futuro? Nel futuro la tendenza è quella di arrivare ad avere acciai che combinino elevate resistenze ed anche elevate tenacità e capacità di deformarsi. Questo per l'alleggerimento delle strutture e per riuscire a garantire una maggiore sicurezza delle persone. Già si sono affermati alcuni tipi di acciai negli anni scorsi come i dual phase di cui alcune realtà europee hanno fatto un cavallo di battaglia importante. La tendenza è quella di spingersi verso innovazioni nel settore metallurgico che consentano di migliorare le prestazioni di questi acciai e questo tema si misura anche con un'innovazione di processo perché questi acciai possono essere prodotti e dovranno essere prodotti con processi a maggiore produttività e a maggiore sostenibilità anche a livello ambientale di cui peraltro in Italia abbiamo già degli esempi importanti come i caricamenti a caldo delle macchine di laminazione oppure le laminazioni in linea con le macchine di colata continua come nel processo del gruppo Arvedi che è un processo assolutamente innovativo a livello mondiale per quanto si tratti di una tecnologia ormai consolidata. Per i prodotti massivi e intendo in questo caso i lingotti e i blumi di grande dimensione per i forgiati ci si sposterà sempre di più su acciai autotempranti o comunque su modifiche di acciai già esistenti che siano in grado di fornire oltre che elevate resistenze maggiore resistenza all'urto come le resilienze e migliori tenacità soprattutto per fornire quelle che sono l'industria estrattiva dell'estrazione, del trasporto, dell'oil and gas e gli acciai per la meccanica che sono un settore che guadagnerà sempre maggiore forza e importanza soprattutto in ambito europeo in quanto in questo ambito vi sarà una forte domanda di acciai speciali per mezzi di trasporto, movimentazione, movimento terra movimento di grandi masse che non può fare a meno di prodotti affidabili e che sicuramente i produttori europei vedranno come un loro punto di forza nell'esportazione verso mercati che non hanno sviluppato processi e tecnologie in grado di produrre beni così complessi come invece sicuramente l'Europa e gli Stati Uniti sono in grado di fare No 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 Grazie a tutti.